Made in Italy, fermo in dogana, è questa l'ipotesi Trump delle ultime ore che vorrebbe alzare le tasse di importazione di prodotti italiani ed europei. È la scure che minaccia il vecchio continente. Washington valuta dazi punitivi del 100%. Nel mirino anche la Vespa Piaggio. La Vespa è una fede, quindi ci sono molti che come me anche in America le prenderebbero. Noto Vespista, il sindaco di Treviso non potrebbe rinunciare al mezzo della piaggio, simbolo del Made in Italy fin dagli anni della dolce vita. Nella lista di prescrizione però ci sono anche acqua minerale, formaggi francesi e moto svedesi. Per adesso il presidente Trump li ha solo annunciati, ma nel caso i dazi venissero applicati le aziende venete potrebbero perdere 4,8 milioni di euro. Per la provincia di Treviso sono 760 milioni all'anno e per la provincia di Belluno sono 961 milioni. Dopo la Germania e la Francia, quello statunitense è il terzo paese di destinazione delle nostre esportazioni. I macchinari, l'occhialeria, le bevande come il prosecco, le calzature e i mobili, i prodotti di punta. E se oltre agli effetti protezionistici di Trump, sottolinea la CGA di Mestre, si tiene conto anche della Brexit e del perdurare dell'embargo alla Russia, il contraccolpo potrebbe essere molto pesante. Argomento dunque da presentare al tavolo del governo. Occasione sarà il prossimo 12 aprile a Treviso. Nei prossimi giorni sarò ospite della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, in piazza Borsa il ministro Alfano, il 12 di aprile, proprio per parlare delle esportazioni, proprio per parlare della rete, delle ambasciate, dei consolati, che serve quale sportello per le imprese.